come svitare una vite senza il cacciavite senza questo importante strumento lo vediamo in questo tutorial di oggi salve a tutti utenti di youtube davanti a me ho questa specie di vite ok ma il procedimento che adesso andrò a spiegare è il medesimo quindi lo stesso per tutte le viti bisogna semplicemente andare a prendere la vita in questione e girarle in senso non orario ma anti orario ecco qua in questo modo qui una volta che avete trovato il verso avete girato verso il verso anti orario scusate il gioco di parole girate 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 fin quando la vite verrà ad essere tolta del tutto come sto facendo io ora ora fatto avete stata tolta vedete sono divertito a toglierla ho girato in senso antiorario non in senso orario va bene grazie è stato un semplice tutorial utilizzando le mani si può anche togliere ovviamente bisogna avere una certa forza e una certa costanza iscrivetevi a kai narrato italiano commentate ciao a tutti